dai libri di storie perché è quelli che al momento adoro e che leggiamo sempre insieme non mi si può dire che non siano DNA perché sono talmente rovinati e usati che non possono che essere suoi abbiamo di tutto, le nursery rhyme, i libri con l'audio ma di solito li leggiamo sempre a voce e sono tutte le collezioni di storie e storie sull'amicizia questo è un copanetto di 20 libri phonics questo ci ha aiutato tantissimo questo è P&M che gioiamo questo ci ha aiutato tantissimo per il trasloco o meglio l'ho aiutato me perché lui è stato tranquillissimo è raccolta P&M, libri con le lucine lucine e suoni, lucine e patate il proprio pap ovviamente super rovinato ma apprezzatissimo e libri e canzoncina sono una miliade di fiabe e storie che arrivano dai due calendari dell'avvento 2023-2024 no, 2023-2022 qua un cofanetto di storie belle resistenti c'è un altro cofanetto di storie che lo accompagnerà veramente per tantissimi anni ce ne sono di tutti i tipi per tanti anni perché sono di vari livelli alcuni molto brevi, altre belle corpose e insomma è veramente un ottimo raccolto 50 fiabe Grazie.